Roccoli, ce l'abbiamo fatta. Nolan N64, che è il casco entry level, cioè per chi non ha troppi soldi, cioè noi due. Esatto, è il nostro casco. E questa è la replica Mr. Helmet by Tweet, Massimo Roccoli. Grazie, è stato un onore. Esatto, è il risultato di un concorso, e molti non ci credevano, fatto da giovani designer, alcuni giovani, alcuni meno giovani, Indivisual e Rigoni hanno vinto, Indivisual per Mr. Helmet, con questa grafica Popcorn e Rigoni con Bike Tweet, con questa grafica un po' Spray, un po' Murales. Ha vinto loro due, Nolan gli fa la replica, gli dai soldi, tu hai fatto una stagione con questo in Supersport, così così, in Endurance un po' meglio, perché abbiamo scoperto che con l'R1, anche se non tocchi i piedi, vai bene lo stesso. E come bambini, mi tengono dal codone e poi mi spingono in patienza. Esatto, questo è, un casco entry-level termoplastico, una calotta, il monocolore costa 139,99, niente, quello con le grafiche fighe costa 199,99, cioè gli dai 200 euro ti danno anche il soldino, e è un casco nuovo di Nolan, fatto per chi, insomma, inizia, ma anche per chi ha voglia di un secondo casco, anche per chi ha voglia di sbattacchiare o vuole questa replica qui, queste due repliche qui che sono bellissime. Di qualcosa? Se vuoi che ti dica, io ti ringrazio per avermi dato la possibilità di mettere in testa questo casco qua, sono contento per tutti coloro che hanno partecipato, perché come voleva si dimostrare, i caschi sono usciti in replica, quindi un peccato per chi non ha creduto all'inizio. Non ce ne frega. Non ce ne frega niente. Però tu corri con l'802, non è che corri con questo, però la richiesta è stata quella di fare un casco, la replica tua e mia, su un casco che costava meno, in modo che tutti la potessero comprare. Quindi datevi da fare, 10 ne devi comprare tu, come minimo, se no non ce ne rifanno più, 10 li compro io per i parenti e chissà che magari... Un po' di amici ci vediamo dentro che ci sono a posto. N64, Massimo Roccoli, Mister Helmet, ciao da nulla.